Martedì 1 maggio in occasione della festa del lavoro i principali musei, aree archeologiche e monumenti statali resteranno aperti, rispettando il normale piano orario e tariffario. Molti luoghi della cultura statale, inoltre, osserveranno l'apertura straordinaria il lunedì 30 aprile per un lungo ponte all'insegna dell'arte.Dalla Galleria Nazionale degli Umbria a Perugia al Museo di Palazzo Ducale di Mantua, dai Musei Reali di Torino al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dal Museo del Castello di Miramare a Trieste agli Scavi di Pompei, dal Parco archeologico di Pestuma alle Gallerie dell'Accademia di Venezia, Dalla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma al Parco archeologico di Ercolano, dalla Galleria Nazionale delle Marche nel Palazzo Ducale di Urbino al Museo Nazionale archeologico di Taranto fino al Colosseo, sono centinaia i luoghi della cultura statale che potranno essere visitati nei prossimi quattro giorni. su doppia buona su doppia buona